Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video, oggi video haul. In questo video ho deciso di mostrarvi delle cose che mi sono arrivate da Amazon, da un'azienda, un regalo che mi è stato fatto. Ho aspettato un po' a fare questo video perché in realtà alcuni di questi prodotti li ho già da un po', infatti alcuni li ho già provati, perché aspettavo l'ultimo pacco da Amazon che mi è arrivato ieri per appunto fare un unico video. Parto con mostrarvi un prodotto che un'azienda mi ha inviato, un'azienda che non conoscevo, mi hanno contattato e mi hanno chiesto appunto se potevano inviarmi un prodotto. Io chiaramente le ho detto di sì perché ho visto un po' il loro sito e mi è piaciuto molto. L'azienda in questione è l'azienda si chiama Rizes Crit, è un'azienda greca che realizza solo prodotti naturali. Loro nello specifico mi hanno inviato la crema Mani, che tra l'altro io non utilizzo tantissimo crema Mani perché mi dimentico di utilizzarla. Tra l'altro questa qui ha una boccettona enorme, da 150 ml, io quelle che ho di solito sono creme un po' più piccoline portabili in borsa, questa qui è abbastanza grande, l'ho utilizzata solamente una volta. La profumazione devo dire che è anche molto molto buona, l'ho utilizzata una sola volta e devo dire che rende le mani davvero molto molto lisce, levigate e vellutate. Questa qui in particolare è l'olio d'oliva e l'aloe vera. Tutti i prodotti che questa azienda realizza sono con all'interno, per quasi tutti, con all'interno olio d'oliva. È proprio una caratteristica di questa azienda, abbiamo anche in mandato il loro Declian, l'azienda appunto è questa qui, Rizes Crit, made appunto in Grecia. Nel loro Declian ci sono tutti i prodotti che loro appunto realizzano. ce ne sono un sacco, ci sono creme mani, creme viso, dentifrici, saponi, oli corpo, gel viso, insomma oli micellari, un sacco di, anche gli oli concentrati, come vedete qui, insomma ce ne sono un bel po' di prodotti, infatti se amate soprattutto prodotti con all'interno prodotti naturali, questa azienda praticamente realizza solamente questi tipi di prodotti qui. Questo qui appunto è senza parabeni, senza siliconi e senza oli minerali e devo dire che insomma l'ho utilizzato solamente una volta quindi non l'ho potuta testare chissà quanto, però insomma vi farò sapere anche perché mi piace molto la politica di questa azienda e quindi vi dirò, mi hanno mandato anche dei campioncini all'interno della loro confezione, tra l'altro io questi campioncini non li amo molto perché non li utilizzo tantissimo, li metto nella cespa e li dimentico lì, però voglio riprovarli, mi hanno inviato un'altra crema a manico come quella che mi hanno inviato, una crema 24 ore per pelli normali, poi una crema 24 ore per pelle secca, sì, per pelle secca, no per pelle grassa, poi mi hanno mandato una crema anti-age, sì, sempre con all'interno olio d'oliva, tutti questi prodotti hanno all'interno olio d'oliva più altri ingredienti e anche una crema, un contorno occhi, questa qui mi interessa infatti voglio provarla, io sono molto, ho fissata con le creme contorno occhi e voglio appunto provarla e questo era quello che questa azienda mi ha inviato, ridiscritta appunto, infatti sono curiosa di provarla e vedere un po', rimanendo sempre in tema di make up, una mia amica, una mia cara amica mi ha fatto un regalo, infatti sono rimasta molto molto sorpresa perché non me l'aspettavo, è un regalo, c'è una cosa che io ho sempre voluto, che ho provato, perché ho provato il campioncino e volevo provare appunto la versione full size, che c'è qui dentro nient'altro, e sto parlando del mascara di Chanel L'Evolume Noir, lei praticamente aveva visto un video in cui io ne parlavo e dicevo che avrei tanto voluto provare la versione grande e lei furbetta mi ha voluto prendere la versione appunto full size ed è questo mascara qui, vabbè il packaging di Chanel è bellissimo, nero, lo scovolino è uno scovolino abbastanza grande perché è abbastanza cicciotto, con setole in silicone e non è appunto lo scovolino quello classico ma è in silicone e fa delle ciglia lunghissime, lunghe e volumizzate, infatti la caratteristica promette appunto di volumizzarlo un sacco ed è vero, cercherò di non spiegarlo perché è uno di mascara, insomma, a parte insomma ci tengo particolarmente e cercherò di non spiegarlo molto, lo utilizzerò soprattutto nelle occasioni un po' più speciali perché non voglio terminarlo, troppo in fretta perché io i mascara li divoro e l'ho provato e già lo conoscevo perché avevo provato appunto il campioncino e mi piace un sacco perché mi fa delle ciglia, wow, io non ho che abbia chissà quali ciglia, ho delle ciglia abbastanza sfigatelle questo qui invece me la rende voluminose, lunghe, incurvate, quindi è fantastico, quindi la ringrazio tanto è stata davvero una pazza regalarmi questo mascara. Poi per quanto riguarda i prodotti che ho ricevuto da Amazon sono due cose, allora una che ho ricevuto prima, vi mostro quella lì, allora che tra l'altro sono molto molto contenta di averla ricevuta, non me l'aspettavo assolutamente, che insomma in realtà l'ho contattata io perché ero molto molto curiosa e sto parlando di uno spazzolino, non so se voi conoscete il Foreo, il Foreo è quella marca che produce spugne per pulire il viso, è molto famosa cioè sul tubo, su YouTube se ne parla tantissimo perché ho sentito un sacco di ragazze che hanno provato il Foreo per pulire il viso, questo qui invece non è lo spazzolino per pulire il viso ma è uno spazzolino da denti, questo qui è il Foreo Issa Hybrid, allora vi parlo un po' perché l'ho utilizzato, lo sto utilizzando da una settimana perché non ce l'ho fatta più assolutamente, vabbè per non parlare di packaging questo qui è bellissimo, è arrivato in giro di pochissimi giorni, confezionato benissimo all'interno di questa biellina, la confezione è questa, cartonato, cartone molto molto origino, appunto dove si vede anche il prodotto il colore l'ho scelto io ed è ovviamente rosa all'interno in dotazione c'è il cavo USB perché si carica con cavo USB e non con presa elettrica quindi o con un computer o con una presa USB e c'è anche la custodia da portare in viaggio in pelle questo spazzolino perché dicono sia fantastico? è uno spazzolino in silicone, è completamente in silicone, infatti tutte le setole sono in silicone all'interno ci sono le classiche setole, i classici spazzolini si accende appunto dal centro, infatti poi si sente il rumore eccolo, dello spazzolino ha una durata di 60 secondi con delle pause appunto dove vi permette di cambiare zona è possibile anche regolare l'intensità della rotazione e questo spazzolino promette di eliminare in maniera un po' più intensa, un po' più strong la placca dei denti, di renderli anche più lucidi e più bianchi ho notato che davvero li rende più lucidi li pulisce davvero molto molto bene perché va all'interno dei denti li pulisce in maniera intensa e in profondità quindi insomma sì, sto riscontrando effetti molto molto positivi da questo prodotto io non ci credo molto negli spazzolini che fanno miracoli infatti non fa chissà quale miracolo ma li pulisce davvero benissimo ripeto in profondità e li rende molto più lucidi e più bianchi, leggermente più bianchi io sono un po' fissata e che altro dire è possibile anche staccare la testina e cambiarla perché dopo un po' di tempo va cambiata potete scegliere anche voi che tipo di testina volete se la volete per, non so, gengive sensibili insomma, e si possono scegliere diverse tipologie di testine io adesso ho questa qui che vi hanno dato loro in dotazione il prezzo è un po' altino di questo prodotto se non sbaglio, se non ricordo male costa sulle 160 euro circa io comunque vi metterò tutti i link tutti i siti, anche del venditore Amazon che mi ha mandato questo prodotto così ovviamente vi fate un po' un'idea e insomma, se voi mi dite se lo acquistate, mi dite anche ciò che pensate se effettivamente, come me, avete riscontrato effetti benefici da questo prodotto ripeto, sono rimasta molto molto contenta di averlo ricevuto l'unica cosa che mi dispiace è che si carica solamente con il cavo USB quindi è un po' più scomodo però in realtà, per quello che ho letto in realtà è possibile effettuare 360 lavaggi con questo spazzolino ogni lavaggio dura circa un minuto quindi praticamente potete farne un sacco infatti fino ad ora non l'ho ancora mai caricato non si è ancora scaricato l'ho utilizzato da una settimana lo sto utilizzando da una settimana considerate che la ho i denti tre volte, anche quattro volte al giorno quindi insomma, fino ad ora non si è ancora scaricato quindi penso che duri ancora un bel po' mi deve durare ancora un bel po' il colore è molto molto bello a parte di essere molto bello anche esteticamente è anche ergonomico insomma, questo è uno dei prodotti che in più mi ha di cui sono più contenta ecco un altro prodotto che ho ricevuto e l'ho ricevuto ieri sono anche di questa molto felice è questo specchio questo è uno specchio diciamo da tavola da vanity table questo specchio ha una particolarità quella di avere le lucine eccole qui di avere le lucine che si illuminano stile insomma panel table delle star mi piace tantissimo sono molto contenta c'è nella versione bianca e nella versione nera loro mi hanno mandato liberamente la versione nera per me insomma è differente ma va bene perché mi piace più questa c'è anche lo specchio che insomma di ingrandimento che potete togliere liberamente le batterie sono anche incluse sono in dotazione perché è appunto con le pile con le stilo le luci sono molto molto belle molto di effetto anche sulla sulla mia postazione perché è molto figa molto figo questo specchio mi piace tantissimo ho sempre desiderato avere uno specchio del genere quindi sono molto molto contenta è possibile anche regolarlo come volete è possibile anche metterlo vi faccio vedere sia in orizzontale quindi così che in verticale come ce l'avevo prima come più piace a voi come più comodo per voi è molto molto resistente la plastica è molto resistente quindi sono davvero soddisfattissima di questo di questo prodotto ripeto anche di questo vi metterò giù il prezzo con il link al venditore non ricordo il prezzo di questo comunque penso sulle 25-30 euro più o meno vi metterò giù tutti i link poi si vedete andate sulla pagina vedete un occhione anche lì come vedete si spegne ecco con una semplice pusciata nel senso e touch ed è bellissimo sono molto 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 contenta anche di aver ricevuto questo prodotto e questo è quanto questo non era granché il bottino però ci tenevo a fare questo video perché sono cose di cui sono molto soddisfatta molto contenta io ringrazio ancora le aziende e i venditori che mi hanno mandato di questi prodotti perché sono stra felice sono felice anche di aver ricevuto anche questo questo mascara dalla mia amica la ringrazio ancora e nulla questo è quanto io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao